Come avete visto, personalmente ho cercato in questi anni di trattare con molta vedutezza e anche il meno possibile il problema migranti, il problema immigrazione clandestina. A mio avviso infatti è talmente evidente che se si volesse non solo frenare ma impedire gli sbarchi e quindi risolvere diciamo radicalmente il problema, beh si potrebbe fare anche facilmente. La mia non è una affermazione di principio, ora è suffragata anche da dati numerici. E i numeri, lei sa, sono inconfutabili. Quando alla Viminale sedeva Matteo Salvini, infatti, e gli sbarchi si sono ridotti in maniera molto significativa. E ricordate tutti quanto Salvini abbia dovuto lottare nei confronti di un establishment che lo continuava ad attaccare. Aveva praticamente contro tutti gli apparati dello Stato. Naturalmente tutti noi abbiamo presente l'esempio più emblematico, caro la racchete, e la sua manovra criminale che ha messo in pericolo di vita alcune persone delle nostre forze dell'ordine. Una manovra che in ogni altro Stato del mondo sarebbe costata a chi l'avesse eseguita probabilmente parecchi anni di galera. Da noi invece, vabbè, è addirittura diventata un'eroina. Insomma, fatto solo questo esempio, naturalmente emblematico, per dire che i risultati sul lato immigrazione, che indubbiamente sono stati conseguiti dal ministro degli interni Salvini, sono stati conseguiti nonostante gli apparati dello Stato italiano, non grazie all'aiuto degli apparati dello Stato italiano. Tuttavia, come dicevo, oggi abbiamo anche la matematica che smaschera, come fa sempre naturalmente, ossia in maniera inequivocabile, le frottole che ci vengono raccontate dall'attuale governo. Quindi, guardando ai numeri, possiamo dire che, senza ombra di dubbio, diciamo, che gli esponenziali aumenti del numero di sbarchi di immigrati clandestini negli ultimi 12 mesi sono stati il frutto di una politica messa in opera dall'attuale governo, il governo giallorosso appunto, che ha proprio perseguito questo obiettivo, ossia aumentare in maniera esponenziale l'arrivo dei clandestini nel nostro paese. Per aggiungere a questa conclusione, ripeto, basta guardare i numeri. Va premesso, naturalmente, che per ovvi motivi di carattere climatico gli sbarchi aumentano nei mesi in cui il tempo atmosferico e quindi le condizioni del mare sono più clementi, logicamente. Forse non serve poi specificare che i dati che vi fornisco in questo video sono quelli ufficiali, quelli del Ministero degli Interni. Partiamo, così, dal 2018. Nei primi sei mesi è in carica ancora il governo Gentiloni con il Ministro degli Interni Minniti. Nel mese di gennaio, nonostante la stagionalità, arrivano sulle nostre coste un numero estremamente elevato di clandestini, oltre 4.000 persone. A febbraio e marzo, fortunatamente, si riducono a un migliaio circa al mese. Poi, con l'arrivo della primavera, come prevedibile, il numero sale. Aprile 3.000, maggio 4.000, giugno 3.000. A quel punto entra in carica il governo giallo-verde con Matteo Salvini, Ministro degli Interni. Ed immediatamente gli sbarchi si riducono. A luglio, agosto e settembre, infatti, anziché aumentare, come era sempre accaduto in passato, nei mesi più caldi, gli sbarchi diminuiscono. A luglio 2.000, ad agosto 1.500, a settembre 1.000. 1.000 clandestini sulle nostre coste anche ad ottobre e novembre e 350 a dicembre. Numeri drasticamente ridotti rispetto all'anno precedente e nemmeno paragonabili a quelli registrati negli anni ancora precedenti, insomma, gli anni del governo Renzi. Potrebbe bastare solo questo per dimostrare che, volendo, gli sbarchi si possono ridurre e ridurre drasticamente. Basta questo per demolire la balla colossale che hanno continuato a raccontarci per anni. Ed ossia che il fenomeno dell'immigrazione era un fenomeno epocale, assolutamente ineluttabile, cioè contro cui non si può lottare, che non si può contrastare, quasi inevitabile. Ma magari qualcuno, e anche giustamente per qualcuno, ciò non basta, perché la riduzione dell'immigrazione clandestina nel nostro paese, nei mesi appunto in quali al Viminale sedeva Matteo Salvini, poteva anche magari dipendere da fattori esterni, quindi non dalle politiche messe in atto dal nostro ministro degli interni. E allora vediamo cosa è accaduto nei mesi successivi. C'eravamo fermati al dicembre del 2018. Allora, gennaio 2019, solo 200. Ricordate quello che vi avevo detto prima, che nel gennaio del 2018, cioè l'anno precedente con Miniti, erano stati 4.000. Ripeto, con Salvini, gennaio 2019, solo 200. Ma è nel mese di febbraio che si tocca il minimo storico in un mese, solo 60. Poi arriva la primavera, ovviamente, marzo 250, comunque un numero estremamente ridotto se confrontato con quello dell'anno precedente, con Miniti, ossia 1.000. Ma il confronto è ancora più impietoso, nei mesi più caldi. Aprile, Miniti 3.171, Salvini 255. maggio, Miniti 3.963, Salvini 782. Giugno, Miniti 3.147, Salvini 1.218. Luglio, Miniti 1.969, Salvini 1.268. E mettiamoci dentro anche agosto, anche se Salvini, come tutti sapete, esce dal governo l'8 di agosto, ma attribuiamo anche a lui tutto il mese di agosto. Quindi, agosto 2018, Miniti 1.531, agosto 2019, Salvini 1.268. Facciamo un riassunto dopo tutti questi numeri. Insomma, primi otto mesi dell'anno, quindi da gennaio ad agosto compreso, Miniti 20.077, Salvini 5.135. Insomma, un raffronto impietoso, un quarto. Insomma, nemmeno raffrontabile. Ok, mi direte, finora hai fatto un raffronto fra Salvini e Miniti, ma poi cosa è successo? Cosa è accaduto con l'avvento del governo giallorosso, con l'allamorgese Ministro degli Interni? Perché è chiaro che se gli sbarchi fossero continuati a diminuire, ebbè, si sarebbe anche potuto ritenere che Salvini era stato solo fortunato, cioè avesse assunto, diciamo, la carica di Ministro degli Interni proprio quando quel fenomeno dell'immigrazione, per motivi naturalmente indipendenti dalla sua volontà, si stava comunque riducendo di intensità. Eh, purtroppo non è così. Allora, il deleterio governo Conte II entra in carica a settembre 2019 e subito si vedono gli effetti. Così come subito si erano visti gli effetti positivi con il governo Conte I, Matteo Salvini, Ministro degli Interni, così immediatamente si vedono gli effetti negativi con l'arrivo del Conte II, Ministro degli Interni, l'amorgese. Ebbene, io vi do naturalmente le cifre ufficiali, ma ripeto, ciò sul quale vorrei focalizzare la vostra attenzione è che gli sbarchi, gli sbarchi dei clandestini, aumentano immediatamente. Questo è un aspetto fondamentale. Riflettete su questo fatto. È chiaro che c'è un'organizzazione che pianifica le partenze. Ebbene, se immediatamente, ripeto, vengono incrementate enormemente le partenze, significa che a questa organizzazione è arrivato un input. E quale è questo input? Ok, venite pure. Anzi, incrementate le partenze perché qua le cose sono cambiate e si torna a fare business con i clandestini. Infatti, a settembre, subito con la morgese, gli sbarchi più che raddoppiano 2.498 clandestini contro i 947 dell'anno prima con Salvini. Stessa cosa ad ottobre, 2017 la morgese contro 1.007 Salvini. Con l'arrivo della brutta stagione naturalmente gli sbarchi diminuiscono, ma restano comunque sempre in maniera superiore rispetto a quelli avuti l'anno precedente. Impressionante comunque i risultati del mese di gennaio e febbraio di quest'anno, rispettivamente 1.342 e 1.211 con la la morgese rispetto, come ricorderete, ai 202 e ai 60 dell'anno prima di Salvini. Ma arriviamo a questi ultimi mesi. Maggio e giugno 1.654-1.831 con la la morgese contro 782-1.281 con Salvini ed eccoci allo scorso mese, quello di luglio. Ricordiamo con Salvini nel 2019 1.088 clandestini. con la la morgese quest'anno nel solo mese di luglio sono sbarcati ufficialmente, quindi ufficiosamente magari sono anche, potrebbero anche essere di più, ma insomma il Ministero degli Interni ci comunica che nel solo mese di luglio di quest'anno sono sbarcati sulle nostre coste ben 7.067 e clandestini. Pazzesco. Naturalmente le co-op che si occupano del business migranti festeggiano come non mai. Sembrano tornati gli anni d'oro del governo Renzi. Ricordate la ormai storica frase pronunciata da Buzzi. Ah, dimenticavo naturalmente una cosa che tutto ciò è avvenuto quando lo scoppio di una pandemia avrebbe invece consigliato di essere ancora più severi nei confronti dei clandestini che ovviamente provengono da paesi che non hanno certamente preso misure cautelative nei confronti del Covid-19. E infatti purtroppo se andiamo a vedere in questi giorni la percentuale di clandestini positivi dopo aver eseguito i tamponi beh c'è di che era brevidire. Mi fermo qua. Lascio a voi ogni ulteriore commento.